Salve a tutti ragazzi, abbiamo più vero Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo video con... The Horibur! Di una nuova custom map denominata The Dropper 2! Perfetto ragazzi! Se volete vedere The Dropper 1 fatta da noi due, potete andare sul canale della Danata Porta! Esatto ragazzi, vi metto la playlist dei video della Dropper 1 in descrizione, canale vecchio mio e suo della Danata Porta, l'abbiamo praticamente abbandonato ma non l'abbiamo chiuso, e comunque abbiamo fatto anche un gameplay della Dropper 1 e ci riteneva giusto, bello, una proprio, ho detto una cazzata, una frase in italiano che nemmeno la Poeccan dice, ma comunque abbiamo fatto questa Dropper 2 perché ci garbava appunto fare la Dropper 2, ci garbava molto, l'abbiamo fatta e quindi eccoci qua, vediamo un dinosaurone bellissimo qua, spawniamo nell'acqua, quella è l'entrata, un blocco in alto, un blocco in alto, un pezzo di lana che nuota, ah bello, un pezzo di lana che nuota, ecco perché mi dicevo, ma che cazzo è sta cosa, uno stronzino che nuota, non lo so, comunque ragazzi ho cambiato Shaders, questo qui è Sasuke DLL Shaders, non lo so, adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua, si chiama Sasuke 7170 V4 Shaders Shader, quindi ragazzi, nuovo Shaders, la skin è sempre la stessa, la cambierò nelle prossime episodi perché questa mi fa altamente cagare, dovrebbe essere di Borat, non lo so, non lo so, allora cominciamo, non c'è una sede in questo cubo, in questo cubo? Ah si è andato su, non c'è nulla, va bene ragazzi, benvenuti a The Dropper 2, Newton vs Darwin, quindi non lo so che cazzo sarà un obiettivo, sopravvivere alle cadute ragazzi, perché The Dropper è una custom map non adventure, ma è una custom map dove si cade, è un po' particolare, sì è un po' particolare, adesso vedrete meglio i particolari se non lo sapete, One Rule, una regola, non rompere blocchi naturalmente, by Bigre, quindi come dicevamo alla scorsa custom map, la scorsa The Dropper 1, by Bigre, grande Bigre, se è una vera, se è una vera tigre, esatto ragazzi, quindi in questo The Dropper 2 hanno messo anche i fails, vedete alla destra, cioè fails Delory, io visualizzo i fails Delory, lui visualizza i fails miei, non so perché, non so perché io non posso visualizzare anche i miei, comunque va bene, non importa, allora important, quindi video settings, sì sì, bisogna chiederle un po', video settings far, quindi noi ce l'abbiamo, brightness bright, ecco questo non sono sicuro sinceramente, ecco infatti brightness moodi ce l'avevo naturalmente, cloud off, ecco nemmeno di questo sono sicuro, andiamo video settings, sì cloud off, texture pack default, quindi noi ce l'abbiamo default anche se abbiamo lo shader, smooth lightning off, e non so che cazzo vuol dire però, smooth lightning, ah smooth lightning, ah vedete maximum, maximum e noi bisogna mettere off, mi raccomando, sono importanti per giocare queste cose, particelle decresed, vediamo un po', vediamo un po' sempre, almeno vi dico anche dove sono magari, decresed, vedete, quindi bisogna cambiare quasi tutte le impostazioni, perfetto, adesso non so che cazzo è cambiato davvero, comunque cominciamo questo nostro custom map, questa nuova nostra custom map, se sei in un server come noi, non dimenticate di mettere il comando con command blocks nel server properties, questo comando qui dovete mettere, non l'abbiamo naturalmente messo già, per ridurre il lag, graphic fast, performance, vabbè questo solo per ridurre il lag, questo reset level scorso non lo premiamo perché naturalmente è la prima volta che giochiamo, quindi premiamo il nostro bottone e cominciamo la nostra avventura, via, 3, 2, 1, your game bone has been updated, quindi se eravamo in creative, adesso siamo in survival, eccolo qua, che cazzo, lori, lori, ci sei? si, no, ma ho preso paura, ho detto che, che cosa cazzo, perché corro velocissimo? oddio, queste pressure plate, controllano se il livello è fatto oppure no, allora lori, ti è laggato per un secondo? o no? no, ti sta laggando un attimo ti sta laggando? ma a te che è successo? no niente, non lo so, io sono qui adesso, ah qui sotto, ho capito ragazzi, allora scusatemi ma Lorenzo li laggava un po' perché stavo per mettere un video, anch'io sono bello e cretino, almeno la connessione se la fotte tutta, allora scusatemi ho tolto lo shader perché siccome questa map è abbastanza grande, ci sono molti oggetti, lagga un po', allora Lorenzo era cascato qui perché naturalmente li laggava, bellissimo comunque, si deve caricare a pieno ancora, però è bellissimo, guardate tutte le spine, fantastico ragazzi, è fatta benissimo, ma a te prima quando ho rilato hai anche fatto? eh io mi ho detto ma che cazzo succede? allora qui ci sono dei livelli, guardate, guarda, Lorenzo, guarda queste lampade, come sono fatte? che cazzo? sono messe al contrario, cioè sono messe oblique, come? come mai? boh, fantastico ragazzi, allora qui dentro c'è la nostra ender chest per metterci tutto quello che non vogliamo perdere, bene, queste pressurprete lo sapete a cosa servono, allora, queste lampade praticamente ci dicono il diamante è stato trovato in questo livello, vedete? questa lampada qui ci dice il diamante è stato trovato in questo livello, mentre quella sotto ci dice il livello è fatto, quindi è una cosa organizzatissima, level 1 possiamo cominciare, naturalmente il level 2 ci dice il livello precedente deve essere fatto per sbloccare il seguente, quindi ragazzi, level 1, ci andiamo subito, bomba! che cazzo? aspetta, ti hai premuto ora arrivo in più, allora, eccomi, ah io sono qui ragazzi, non so, che cazzo è? ah una pressurprete, già non lo so che cazzo vuol dire, read me, Hans the Bat, allora, leggimi, quando il bottone è premuto, tu sarai teletrasportato, TP works, vabbè, ah il TP dipende dalla tua posizione in questa stanza, quindi siedi nel blocco giallo e stacci, allora ragazzi, quindi noi dovremmo andare nel blocco giallo e starci praticamente, ma io ho ancora night vision e speed, come mai? si, guarda bisognava prendere, si bisognava prendere allora, ah si, si vedi, si ragazzi scusate, se non bisogna prendere le pozioni, vedete che se andiamo qua, ci dà la night vision però, la corsa non ce la dà, quindi la corsa, no, la night vision si, capite? la night vision si, allora, quindi bisogna andare in questo blocco, e bisogna starci, e bisogna premere il pulsante, quindi premiamolo e andiamo velocemente, allora ragazzi, premiamo il pulsante, 5, 4, cazzo, 3, 2, 1, uuuuuh, cazzo, ahahah, madonna ragazzi, oh my god, cosa è successo? il mouse non mi fa più addirittura, ci deve essere stato qualche, ah, mi sarà praticamente bloccato, madonna ragazzi, che cosa, che cosa, lori, te devi ancora scendere? eh, è che, mi scherza? muori? eh, non c'entro il cosmo, oddio, no, no, è stata una cosa delle più belle, proprio, no, vabbè, andiamo un po', se l'aria arriva, ah, ok, ho capito come mai, vai, madonna ragazzi, è un momento proprio centrale, che cosa, cioè, ma, io, 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 davvero, bellissimo, ooooh, eccolo, oddio, oddio, mo, allora, c'è un diamante in ogni livello, quindi ragazzi, lo prendiamo, lo mettiamo naturalmente anche nell'ender chest, perché tanto lo trasferirà, fatto il primo livello, oddio, è stata una cosa, paurosa, ma è fantastica, infatti, vedete, ci dice che, è stato raccolto il diamante, ed è stato raccolto, il nostro, è stato fatto, insomma, il nostro livello, allora, non so se raccoglieremo tutti i diamanti, ma è abbastanza difficile, quindi non credo, possiamo fare il livello 2, allora, un attimo, è stata una cosa fantastica, Lorenzo, un attimo, ogni livello, dovrà uscire, quindi taglierò naturalmente, perché gli lagga un po', dato che non è un server o stato, ma è stato da me, quindi, perfetto, un attimo, ragazzi, a volte mi si blocca, non lo so perché, possiamo fare il livello 2, quindi, aspetta, aspetta, devo andare al livello 2, è il livello 2, previous level, vabbè, livello 2, clicchiamo, anch'io, oddio, che cacchio succede, oh, che culo, allora, madonna ragazzi, non mi si è caricato del tutto, però, guardate, è stata una cosa, allora, qui, once the button pushed, allora, un attimo, perché qui è, ah, push the red button, to go back to the first room, un attimo, io vado alla prima stanza, ragazzi, alla stanza iniziale, per vedere se magari me lo carica meglio, almeno vedete meglio voi anche, vediamo un po', no, me lo carica praticamente ugualmente, è molto, è molto bello però, non so perché non me lo carica, ma comunque va bene, chi se ne frega, allora, bisogna premere qui, e bisogna andare al centro della stanza, ovvero qui dentro questo blocco giallo, no, quindi, premiamolo, allora, stai pronto Lori? 5 secondi, via, 1, oh, ci siamo? Allora, trova, trova una via, per raggiungere il, 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 i piedi, insomma, del livello, il giù del livello, wow, oh, oh, sei morto? Eh, sì, eh, mi sa, l'ho visto, allora, madonna, ragazzi, ma questa è una torre, scusa, credo, perfetto ragazzi, scusate, ma non riesco, non riuscivo a capire perché, il mio computer mi stava laggando, in tal modo, in tale maniera, allora, vediamo un po', io, 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 io non riesco a capire perché non vedo, guarda, mi vedi, mi vedi, mi vedi, sì, io a te ti vedo un attimo però, perché ho un attimo, aumento la distanza, hai visto? Ah, bello, ma io ho ancora la speed, perché? Vabbè, guarda, oh, sì, ce l'ho fatta, mezzo cuore, mezzo cuore, oddio, che culo, mezzo cuore, allora, qui siamo in peaceful naturalmente, quindi il cuore, i cuori si recuperano veloce, allora, qui, oh, ce l'ho fatta, sì, qui, vai, tanto c'ho tutto il cuore, oh, ok, guarda qua, boh, c'è una chest, diamanti, bene, lo prendiamo ragazzi, naturalmente lo mettiamo di qua, oh, che cazzo no, oh, stiamo attenti, vedete ragazzi, questa è una trapped chest, vedete? Una trapped? Sì, una chest trappola, che è? Hai visto il contorno rosso, nel pirullino, bianco? No, io ce l'ho bianco, ah, sì, quella è una trapped chest, vuol dire che è possibile attivarci un meccanismo di redstone, ah, vabbè, è chiaro, quando c'è un diamante, lo togliamo, naturalmente si attiva la luce, sì, è chiaro, sì, sì, vabbè, guarda qua, la miseria, io non ci vedo, ma, qui dentro che cazzo, moh, vabbè, non c'è andato, ah, ma qui dentro, ah, ma qui dentro non è dove si andava per iniziare il livello? Sì, va bene, eh, è uguale, va bene, proseguiamo ragazzi, proseguiamo, io c'ho la speed 2 ragazzi, non lo so perché, cioè lo so perché, ma non so perché me la continuano a tenere, me la continuano a tenere, allora, e cazzo, questo è difficile, ma ce l'ho fatta, vabbè, dai, è abbastanza facile, eh, sì, sì, ce l'ho fatta, allora, proseguiamo, proseguiamo, vediamo un po', vabbè, qui, qui, oh, sì, 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 eccomi, eccomi, uh, allora, vedo, vedo la base ragazzi, vedo la base, oh, aspetta un attimo, fammi arrivare a pieni cuori, vedo una giunglina sotto, oh, vedo anche dell'acqua, sì, c'è dell'acqua, blender si può cascare, però, eh, non ce li resti mai, eh, in effetti, sarebbe bello però farci un bel saltone della fede, salto della fede, no, oddio, no, ce l'ha fatta, vabbè, se lo fa lui, salto della fede, iii, no, cazzo, per poco però, devo dire, per poco, cazzo, no, aspetta, aspetta, voglio provare a fare così, salto della fede, iii, no, sì, un attimo, ce la posso fare ancora ragazzi, sì, no, no, oddio, ce la devo fare, ce la devo fare, da lì alto, ce la devo fare ragazzi, è d'obbligo, salto della fede, iii, iii, si, 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 ce l'ho fatta, si, guardate ragazzi, salto della fede, peggio, 10 auditori, peggio, allora, non so, io, ecco, cazzo, 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 cazzo da qui, ma do, devo notare, però, adesso che mi vedo anche il mio nome, eh, fields, anche ppruzzor, but, va bene, allora, proseguiamo, credo che dobbiamo andare per qua, no, vabbè, è stata una cosa troppo epica, non pensavo che bisognava fare il salto della fede, però lì vedo alcuni pulsanti, vediamo un po' di che cosa si tratta, un attimo, eh, allora, push the blue button, no, vabbè, the black button gives a jump and resistance, boots for few seconds, find the diamond, ah, vabbè, abbiamo già trovato il diamante nascosto, vediamo un po', eh, sì, era quello lì che abbiamo già trovato, vediamo un po', andando di qua, che cosa succede, non lo so, cioè, penso che sia un'altra via, bellissima questa giungla, tra l'altro, boh, magari di sicuro, anzi, c'è qualcosa di segreto, mi lagga un po' dentro questa foresta, no, vabbè, ora no, chissà, di sicuro c'è qualcosa di segreto, bellissimo comunque, bellissimo, è piena di, è piena, è piena di roba, è infinita praticamente, ora, di sicuro ragazzi, ci farò un out of scene, e quindi, eh, la esploreremo meglio, in creative, per vedere la sua vastità, la sua bellezza, ragazzi, quindi, adesso ritorniamo nella via principale, non stiamo a perdere tempo adesso, facciamo il terzo livello, poi ragazzi, chiuderò il video naturalmente, perché non è che, comunque, questa torre di Isengard, vedete, bellissima, è stata una cosa davvero epica, alzato della fede più epico del mondo, è davvero fantastico, grande bigress, è una vera tigre, allora, proseguiamo il nostro livello, perfetto, bash the blue button, ritorniamo a casa, lori, non so se mi vuoi fare tp, perfetto ragazzi, io direi di mettere il set time, team, set, 1200, boh, cazzo, set time, no, time set game, vabbè, uguale, uguale, allora, eccoci qua, level, tre, proseguiamo, aspetta, non ci cliccare, ci ho cliccato, vabbè, ah, bisogna tra l'altro, sbloccare il level 2, è vero, perché, per sbloccare, naturalmente, per dare, completato il level 2, bisogna cliccare su quelle, per surplate, adesso, dovrebbe essere sbloccato, perché no? perché no ragazzi? Ah, ecco, vedete? Ah, ecco, bisognava premerle tutte, ecco, allora, level 3, naturalmente, se non è sbloccato il level 2, level 3, non lo potete fare, andiamo, level 3, Neo, don't see the water, just reach the floor, non vedi la, non vedi l'acqua? Basta raggiungere il pavimento, non so che cazzo vuol dire, ecco, questa che, beh, con questo ragazzi, con questo pulsante, ritorniamo nella schermata iniziale, allora, don't see the water, just reach the floor, qui però, credo, credo bisogna buttarsi, oh, non lo so che, eh, non lo so che cazzo succede, oh, oddio, Matrix, Matrix, oddio, Matrix, ragazzi, ecco perché si chiamava Neo, ora capisco tutto, ragazzi, Neo naturalmente è un personaggio di Matrix, questo è il Matrix, quindi, il code per i programmatori, insomma, se non avete visto Matrix, non potrete mai capire, devo andare sopra questa cosa, oh, oddio, dio, 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 no, ma dobbiamo spostarci tra le varie, perfetto ragazzi, allora ho risolto il problema, scusate, allora vediamo un po', Lorenzo ce l'ha già fatta, mi ha detto, oh, oddio, dio, 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 come cazzo faccio, come cazzo faccio, come cazzo faccio, no, 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 cazzo, guardate a che distanza sono morto, madonna, madonna, davvero, sì, proprio, cioè, sono morto, a un soffio dal fame, me, oh, ho trovato la, la, la pedana con le cose, con la chest, oh, che cazzo, mi ha generato tutto, mi ha generato tutto, sì, tipo a rallentatore, e adesso riesco a saltare, beh, oh, che cazzo, è una cosa stranissima, è stato fantastico, devo dire, però, è stato fantastico, ora ti ha generato tutto, vero? sì, praticamente sì, ma ha generato tutto, adesso ho rimesso far, quindi, bene ragazzi, avete visto, fantastico, andiamo naturalmente qui, le chest non le possiamo, non la possiamo prendere, quella lì, non riesco a capire come si faccia, tra l'altro, premiamo il tastino blu, naturalmente, che è questo nero? non lo so, io ho premuto il blu, oh, eccoci qua, premiamo tutte, le, eh, pressur plate, abbiamo fatto anche livello 3, eccolo qua, non abbiamo preso il diamante, magari dopo ci faremo una capatina, da Viveru Zorbe, te, Delori, è tutto, ci si vede, ciao a tutti,